Nelle sale espositive della provincia di Pordenone, in corso Garibaldi, si possono ammirare cento scatti d'autore di Branko Lenart, fotografo sloveno di fama internazionale. La mostra, promossa da provincia e kraft, raccoglie foto dedicate all'Austria e in particolare all'Astiria degli anni 70, con splendide immagini di vita contadina e non solo. Nei giorni di Pordenone Legge l'esposizione è visitabile con orario continuato dalle 10 alle 22. Nicola Calagari, in occasione di Pordenone Legge la provincia apre le sue porte con questa mostra. Assolutamente sì, Pordenone, provincia di Pordenone, amministrazione provinciale, vuole aprire le porte proprio a quelle che sono le sinergie e le collaborazioni col territorio, sinergie e valorizzazioni delle nostre manifestazioni. Pordenone Legge appunto fiore all'occhiello di questo territorio assieme al CRAF e come tradizione già da diversi anni andiamo a proporre una mostra fotografica. Dopo Pordenone Legge l'esposizione rimarrà aperta i sabati le domeniche fino al 10 novembre. Ingresso libero per informazioni iscrivere a cultura-provincia.pordenone.it